Ciao a tutti da Carla su divertirsi in cucina, oggi prepariamo insieme questa deliziosa torta con latte e nutella semplice e super veloce da preparare basta inserire tutti gli ingredienti all'interno di una ciotola, mescolare e subito in forno mi raccomando provatela, io vi lascio al video ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di lasciarci un like o un commentino buona visione all'interno di una ciotola inserite 3 uova 150 grammi di zucchero 200 grammi di latte 30 grammi di olio di semi di girasole 200 grammi di farina una bustina di lievito per dolci e per finire 2 cucchiai abbondanti di nutella mescolate bene il tutto con lo spattitore elettrico fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo versate il composto ottenuto all'interno di uno stampo da venti precedentemente imburrato e infarinato e infornato in forno caldo statico 180 gradi per circa 40 minuti mi raccomando fate sempre la prova stecchino per verificare la cottura ed eccola qui la torta pronta per essere gustata come avete visto è veramente semplice e super veloce da preparare ed è morbidissima non so se si riesce a percepire dal video spero di sì mi raccomando provatela e se la provate fateci sapere ciao a tutti e alla prossima ricetta ciao a tutti